Un quinto set dominato dal suo nome? Sono contento anche per quelli che sono entrato. Cosa si prova a sentire il pubblico dalla propria parte? La pubblica ha visto che è stata una partita punto a punto, si è andato dentro la partita, nel campo abbiamo sentito la loro energia e ha fatto il più per vincere.